ben trovati ben trovati al nostro solito contenitore dove cerchiamo di conoscere nel migliore dei modi quelli che sono la grande forza di Remax Platinum cioè gli agenti immobiliari Arturo Ficarra ben trovato come stai? Tutto bene grazie a Tidio per avermi invitato grazie grazie anche a te ringraziamo sempre la grande produzione di Media Platinum che ci permette di andare sempre in onda conosciamo un po' un aspetto molto molto importante cioè è un agente immobiliare certe volte che deve coccolare il cliente nella sicurezza di mettere nero su bianco quella che è la storia e la vita dell'immobile hai detto bene Attilio in realtà la figura dell'agente immobiliare diventa quasi un garante un garante sia per l'acquirente ma anche per il venditore fa le veci di ammediatore ma deve garantire sia all'acquirente una conformità urbanistica che non ci siano problemi dietro all'immobile ma anche al venditore perché il venditore si sente sicuro quando un agente immobiliare propone un acquirente perché è un acquirente certificato è andato a fare tutta una ricerca anche sulle potenzialità di acquisto dell'acquirente è molto importante che chi compra compri un immobile che non abbia nessun tipo di abuso ecco chiamiamo anche questo perché poi è vero che in prima istanza tu compri la casa della vita ma non si sa mai perché poi la rivendita può essere invece problematica o sbaglio allora io dico sempre le case si comprano con il cuore chi entra in una casa per la prima volta ha un impulso se la casa gli piace è molto istintiva come acquisto però poi è ovvio che si calma un attimo cerca di capire bene e allora a questo punto si riferisce all'agente immobiliare per avere appunto tutte le sicurezze del caso non puoi fare un acquisto della tua vita solamente di pancia devi anche avere delle sicurezze il mercato immobiliare per quanto riguarda la città di Catania ma anche in provincia come stanno gli immobili? sono messi bene? male? gli immobili stanno benissimo è tutto in vista della regolarità Catania tu considera che quando viene qualcuno da fuori è ovvio tutti gli amici miei mi dicono vivi e lavori in una città bellissima però è anche vero che bisogna fare molta attenzione sugli immobili che vai a trattare probabilmente rispetto alle altre città d'Italia non siamo messi così tanto diversamente cioè c'è l'immagine possibilmente che al sud ci siano delle irregolarità urbanistiche più spiccate ma non è così non è affatto così Arturo Figara perché Remax Platinum? sei da due anni in questa famiglia la definiamo così perché così è io vengo da prima la mia esperienza di agenti commerciale però trattare con la gente è quello che mi piaceva in quel lavoro in questa azienda nella Remax si parla di gente non si parla di prodotto ok curare e coccolare come hai detto tu all'inizio le persone vendere ma per capire le esigenze sia del venditore che dell'acquirento perfetto grazie Arturo Figara grazie a te grazie a voi noi abbiamo concluso il nostro spazio abbiamo conosciuto meglio Arturo Figara noi continueremo a conoscere la grande famiglia di Remax Platinum e vi rimandiamo sempre alla nostra pagina Facebook Remax Platinum grazie a tutti